Ok, perfetto. Ok, continuiamo. Non arriva là un po'! È finita l'acqua! È finita l'acqua! Stiamo chiedendo! È finita l'acqua! È finita l'accidental! È finita l'acqua! Gli d'esserezza... Gli d'ampli! E l'acqua! ... ... ... aspetta che sganciamo aspetta e lavorano pure con difficoltà perché c'è chi raccoglie manichette chi va via per andare a fare il rifornimento idrico aspetta aspetta Grazie a tutti. Grazie a tutti.